Quando si arriva a saturare la memoria RAM prima della potenza di calcolo della CPU, se si vuole continuare ad usare un PC senza dover aspettare che finisca di vomitare il contenuto della RAM nella memoria swap sul disco rigido, per poi ricominciare a dare segni di vita, è opportuno valutare seriamente l'aggiunta di un bel banco di memoria, anche nel caso di vecchi PC come nel video, dove aggiungo un banco da 8 GB. Basta controllare che il tipo e la capacità di memoria siano supportate dalla scheda madre e compatibile con quella già installata. Nel video, pur essendo dello stesso tipo di quella installata ma con frequenza superiore, si auto adatterà alla frequenza più bassa e funzionerà a singolo canale, non essendo in coppia con una identica, anche se la scheda madre ha questa funzionalità. Per configurare al meglio le memorie è opportuno usare la sequenza di slot indicata sul manuale della scheda madre, oppure in mancanza empiricamente provare varie combinazioni prima di usarla come osso per il cane. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto, grazie per la visione. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.